e bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale youtube di benza crew oggi siamo con un ospite conosciutissimo siamo con luca salvadori di sicuro più iscritti di 3d ai quanti iscritti sei quasi 100 aspetta 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 prima di iniziare il video ho visto che il 70 per cento di voi che guarda i video non è iscritta quindi per il supporto qua sotto cliccate il bottoncino rosso iscrivetevi al canale perché è gratis e un'iscrizione può darci tanto di quel supporto che neanche immaginate quindi supportateci iscrivetevi e lasciate like al video e adesso iniziamo con il video adesso cresciamo pian piano cresciamo dai e si cresce facendo così diciamo con gli ospiti importanti e non serve presentazioni sei pilota bimbu corri nel campionato italiano nel national troffi e al corso nella propria italia nella finale cacca hai vinto vorrei partire da quali chiedendoti l'emozione dentro il casco dopo aver tagliato il preguardo ma detto sinceramente non so quando farà uscire questo video a breve allora stavate all'ospirare quello che succede dico solo che l'emozione non è stata quella di gioia in quel momento è avuto uno shock così forte che non mi sono neanche voluto la vittoria in ogni caso vedremo lo vedrete sul canale però no no uscirà quando il tuo video è già uscito quindi puoi dirlo posso dirlo si puoi dirlo allora rimanere senza benzina per il punto della fine mentre sei primo è una grande è entrato anche luca pedersoli io entro di traverso tutta la vita che entro di traverso colgo l'occasione qua nel video per ringraziati per avermi invitato quale arrivi grazie a te grazie a te ovviamente io sono con la maglia di perotti tra cui salvatore luca pedersoli io tipo perotti e viva l'italia adesso c'è il national dell'ultima gara che forse quando è uscito questo video già la corsa però non sboglieriamo niente e che cosa fa andiamo giù ai e si aiuta la buonanotte ma io non c'hai già corso il campionato c'è ancora tutto il lotto siamo in 5 lotto per il campionato io sono il più strigato dietro però almeno non ho la pressione di essere il primo il campionato però vedrai invece a pedersoli che ha fatto una data della pioggia per vale luca ma io ho conoscenze la pioggia ma io vengo io a vale luca dai due petuniere quale mio papà vende cemento quindi non devi cementarmela però no no metto acqua nella botta almeno ripiangiore ma tranquilli bomba bomba perfetto bomba e la riempiamo il sabato mattina oppure non un argine tipo da su fai crollare tutto va bene perfetto e un altro fatto visto che c'è il proprietario della riding school vorrei chiederti cosa ne pensi di questa scuola guida ma assolutamente la scuola questo fa riflettere io sono nato qui come c'è l'ora che la volta che sono nato in pista e adesso sono qui adesso devi piegarti adesso non ho mai piegata una è meglio però esatto come vedete tengo ben salte anche io visto che le moto sono le mie anzi neanche le mie va bene non entriamo nei dettagli però per adesso la situazione è questa e io continuo a tenermeli ben salte se volevi lanciare velocemente la bomba che lanciate su instagram dei post per l'anno prossimo magari è giusto dare un accello ma c'è questa qua è la bomba atomica perché una prossima faremo gli eventi nostri dei posti con il passeggero ma roba non tirando le bambole facendo le foto attraversi impennate insomma una roba seria prezzo in più abbiamo gli airbag intanto ma si imparo anche un po' c'è la clausla è più 560 euro per il messo in uso 2.000 viva vabbè quindi ringrazio luca per i video ringrazio anche l'altro no scusate se mi sono intaggresso ma meglio perché vado via vado a fare quello che facevo cioè grazie luca per il video grazie a te iscrivetevi al canale commentate il video e lasciate mi piace se vuoi farlo a te che sei più bravo di me e come al solito iscrivetevi al canale e grazie a tutti